Salve a tutti, oggi vi commenterò il terzo turno giocato a Capo d'Orlando e qui gioco contro Francesco Borrello In questa partita nessuno dei due è riuscito a sopraffare l'altro, questa è una partita molto piatta perché veramente non ci sono imprecisioni, non ci sono errori da parte di nessuno dei due Anche perché la posizione era abbastanza facile da capire e abbastanza giocata da molti quindi si poteva pareggiare tranquillamente Anche se il mio avversario ha osato un po' di più, io invece ho cercato di mantenere una posizione solida, di aspettare l'errore del mio avversario Anche perché puntavo molto sul fattore elo, promettendo il fatto che nelle partite di dama, per i meno esperti, nei campionati, nei tornei che si organizzano in giro per l'Italia O regionali, o nazionali, o provinciali, in questi tornei uno parte con un determinato elo L'ielo sono dei punti che vengono diciamo affidati durante il passaggio da provinciale, cioè la prima categoria, al regionale, alla seconda Da regionale uno inizia con mille punti, poi per salire bisogna vincere contro gli altri avversari fino a passare nelle altre categorie Ora il mio avversario, questa partita, mi sembra che aveva 2200 punti Io partivo da un elo di 1580 punti, cioè ragazzi quasi 700 punti in meno di lui Quindi anche con un pareggio il mio avversario avrebbe perso punti elo Quindi il mio obiettivo era quello che, se lui ci teneva tanto al punteggio elo, come tanti giocatori fanno Fare in modo che lui si sbilanciasse e poi magari vinceregli la partita Però ragazzi, l'apertura è stata giocata molto molto semplice, c'è pochissimo da commentare Infatti sto allungando un po' il video con questo commento iniziale L'apertura è la numero 58, una 1N comincia con 21, 18, 12, 16 e 23, 20 C'è questo cambio iniziale, qui il nero come mossa principale ha 10, 13 Però fa 10, 14 rientrando in un'altra apertura Poi dopo, ecco, le mosse standard per sviluppare, giusto, mosse proprio come una partita per principianti Poi 5, 10, 28, 23, lui mi fa 8, 12 per impedirmi la 23, 19, altrimenti c'è un tiretto Io ovviamente faccio 22, 19 Nel tiretto più che altro sarebbe stato un tiretto posizionale Perché mi avrebbe fatto mettere in una posizione un po' più scomoda Da questa posizione ragazzi io faccio 22, 19 Lui mi fa 10, 14, cambio Io catturo con la 27 perché con la 26 qui mi sentivo pressato E magari non so se qua c'era qualche attacco Comunque ho controllato che anche catturando con la 26 qui la posizione è pari Ma faccio con la 27, lui 12, 15 Io metto dei pezzi per cercare di contrastare il centro Lui fa 2, 6, molto buona e anche sbilanciandosi diciamo vuole tentare di fare qualcosa in più Di complicare la posizione ma è molto semplice 30, 26 Qui lui fa 6, 10 Io attacco e penso per molto tempo Penso 5, 10 minuti E faccio 23, 19 Calcolando che anche con la 11, 14 io riprendo poi il pezzo Infatti è quello che succede Lui cattura Ora lui rimane di catturare questo Quindi siamo a pezzi pari Lui fa 4, 7 Io ho 22, 19 Cercando di andare verso la damatura Poi lui mi fa 10, 13 Da qui penso moltissimo E decido di non andare avanti perché anche lui può andare a fare damma Comunque la posizione sia con la 18, 14 che con altre mosse tipo 19, 14 è pari Però decido di non rischiare perché mi sento con i pezzi molto più esposti Quindi faccio 19, 15 Cambio Lui deve dare il cambio con 7, 11 E da qui la posizione è completamente pari Giochiamo ancora qualche mossa Poi andiamo a finire in una pari con due dame contro due e le pedine bloccate E da lì facciamo direttamente pari Ora non ricordo bene le mosse giocate Ma comunque la posizione è stata abbastanza giocata bene Mi dispiace la partita troppo piatta Ma vi assicuro che il quinto e il sesto turno saranno partite molto più combattute Grazie a tutti per la visione Vi ricordo di mettere un mi piace se il video vi piace Iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi contenuti E noi ci vediamo alla prossima